Vi voglio presentare la nuova Orbea Wild My Oh, cioè colorata con i colori che abbiamo scelto noi di e-bike mag. Il telaio è completamente in carbonio, le ruote sono da 29 pollici davanti e dietro, la motorizzazione è Bosch con una batteria da 750 watt ora, fra l'altro qua sotto guardate che c'è il blocca forcella in modo da non andare a rovinare il telaio se uno dovesse girare troppo il manubrio per una caduta, l'escursione è di 160 mm al posteriore e di 160 o 170 all'anteriore, quindi questa è una bella Endurona, anche dal peso si capisce che è Endurona, infatti sulla nostra bilancia ha segnato 23 kg e 6 senza pedali, vedete che c'ha una bellissima luce perché io la userò anche per venire qua nella nostra sede, non l'ho ancora usata, è nuova di pacca, ve la sto facendo vedere in tonsa nuova perché da domani inizia il nostro test, quindi state sintonizzati qui sul nostro canale YouTube, sottoscrivete per non perdervi poi il test.